Siamo a Rimini al 58esimo congresso della società italiana di reumatologia per fare il punto sulle novità più interessanti in particolare sull'algodistrofia e lo facciamo con un vero esperto con il dottor Massimo Varena che pochissimi giorni fa ha ricevuto un riconoscimento molto importante ovvero quello di essere stato classificato come il miglior medico al mondo nella cura dell'algodistrofia da parte dell'agenzia di ranking americana Expert Escape. Trovarei innanzitutto tantissimi complimenti per questo bel riconoscimento che preme la sua ricerca proprio nell'algodistrofia. La ringrazio molto ma per questo tipo di riconoscimento che premia la ricerca italiana ma non va dimenticato che non è merito mio esclusivamente ma è un riconoscimento che va comunque condiviso con tutte le persone che in questi dieci anni hanno lavorato con me e mi hanno aiutato in questo tipo di ricerca. Bene allora lei nella sua relazione qui al congresso della Sire di Rimini ha tratteggiato un po' diciamo così come si è evoluta la terapia dell'algodistrofia dagli esordi fino ai giorni nostri e anche gettando uno sguardo al futuro. Allora incominciamo con quello che lei ha chiamato lo ieri ecco come è stata curata fino a poco tempo fa? Sì in realtà il percorso che io ho seguito è stato un po' più ampio nel senso che siamo partiti da quando alcuni studi hanno mostrato parecchio tempo orsono come il tessuto osseo aveva un ruolo fondamentale nell'innesco e nella patogenesi cioè nel divenire della malattia. In conseguenza di questo i farmaci che hanno una focalità prioritaria a questo livello sono nel tempo logicamente emersi come la strategia migliore e in particolare negli ultimi vent'anni farmaci appartenenti a una categoria che si chiamano bisfosfonati sono quelli che hanno sicuramente mostrato i risultati più positivi. Ecco tra i bisfosfonati però ne avete selezionato uno che a questo punto è emerso come il farmaco di riferimento. Sì il neredonato ha avuto il pregio di essere indagato estensivamente con una metodologia decisamente superiore rispetto a quanto fatto per le altre molecole e i risultati hanno sicuramente mostrato che è un farmaco che ha un profilo di efficacia che a questo punto è talmente assodato da essere stato il primo e finora unico farmaco registrato con la specifica indicazione per il trattamento di una malattia algodistrofica. Ecco lei qui a Rimini ha presentato i dati nuovi anzi nuovissimi relativi appunto alla via intramuscolare del neredonato perché fino a poco tempo fa l'unica via disponibile era quella endovenosa. Ecco che dati sono emersi dal punto di vista appunto della somministrazione che naturalmente è molto più comoda quella per via intramuscola? Ma esattamente quello che lei diceva nel senso che il farmaco è stato individuato e registrato con la somministrazione per via endovenosa. Somministrazione per via endovenosa che logicamente deve fare riferimento a una struttura ospedaliera in ragione del fatto che stiamo trattando una malattia che spesso è estremamente impegnativa per il paziente in termini di sintomatologia dolorosa, l'imporre al paziente l'accesso ripetuto in ambiente ospedaliero diventava troppo impegnativo. Quindi lo sviluppo della via intramuscolare è stato il tentativo per cercare di favorire questo tipo di terapia in pazienti in modo tale che potessero assumere il farmaco e quindi curare la malattia a domicilio. Eccoli qui al congresso di Rimini ha presentato dei dati che confermano che l'efficacia del farmaco diciamo così rimane inalterata per almeno 12 mesi. Ecco ci spiega un attimo lo studio come è stato fatto e soprattutto quali sono stati i risultati che avete visto. Sì, lo studio che è andato a indagare l'efficacia del farmaco per via intramuscolare ha avuto anche un braccio successivo, chiamiamolo così, o meglio un'estensione dove pazienti trattati col farmaco per via intramuscolare e pazienti trattati con il farmaco per via endovenosa quindi secondo quello che era lo schema terapeutico precedente sono stati seguiti nel tempo. Questo per andare a verificare è un dato che manca tuttora in letteratura ovvero se la remissione, se la guarigione, chiamiamola così, ottenuta in acuto in tempi brevi venisse mantenuta nel tempo. Ebbene questi dati che sono stati raccolti per un periodo di tempo di un anno dal termine del trattamento hanno mostrato che non solo i pazienti mantenevano il miglioramento ottenuto subito dopo il termine della terapia ma questo miglioramento veniva quantomeno sulla sintomatologia dolorosa aumentato e incrementato nel tempo e arriviamo a 12 mesi a una remissione che supera il 90% dei casi. È importante sottolineare come questo tipo di risultato non si basi solamente sul controllo della sintomatologia dolorosa che è sicuramente il sintomo principale di questa malattia ma coerentemente tutti gli altri segni clinici della malattia algodistrofica ovvero l'edema, ovvero la limitazione funzionale, ovvero le alterazioni sensoriali intese come anodinio o iperpatia ebbene tutti questi dati presentavano dei riscontri di efficacia assolutamente coerenti con quello che era il controllo della sintomatologia dolorosa. Ecco per chiudere vorrei che lei lanciasse un messaggio analogo a quello che ha raccontato nel corso della sua relazione relativamente alla tempestività dell'intervento. Cosa dobbiamo sapere a questo riguardo? Sì, questo è, non voglio che venga considerato una mia fissazione ma oramai ci sono dati consegnati della letteratura che dicono che questo tipo di strategia è tanto più efficace quanto più precocemente viene istituita. Quindi l'anello debole della catena non deve diventare il ritardo diagnostico non appena il clinico ha anche solo un sospetto di una sindrome algodistrofica incipiente è il caso che questo paziente venga indirizzato a centri di riferimento per confermare un eventuale sospetto diagnostico ma soprattutto per istituire quanto prima la terapia perché in queste situazioni le probabilità di ottenere una guarigione del paziente sono le più elevate.